Alla faccia gli ho chiesto 10 kg e ne ha fatte 18 Cioè ancora non l'ha fatta Vabbè ragazzi mi sta confondo Oggi ragazzi mi sento molto molto buono e sono in vena di fare regali Anche se non è il mio pass battaglia preferito Per fortuna esistono i gusti e non è per tutti così Ho il più piccolo del team ovvero Tony che è veramente innamorato Purtroppo non può sciopparlo e quindi sono qui Per una sfida incredibile 10 kg in pubblica e sarà suo Si riuscirà? Fatemi sapere nei commenti senza barare Quindi non sbirciate in avanti e scrivete se lo farà Ma soprattutto scrivete il vostro ID Perché a 10.000 like prenderò uno di voi E farò una sfida analoga O con il passo o con le skin nello shop E a proposito dello shop ragazzi Diego Trattino Abusivo Se volete supportarmi, se volete darmi una mano E mi raccomando taggatemi su Instagram Detto ciò direi di invitare Tony e lanciargli la sfida Accetterà? Penso proprio di sì perché è molto forte Quindi secondo me ci riuscirà Ok ragazzi è appena uscito il guarda Tony devi essere carico Perché tra te e il nuovissimo pass battaglia Ci sono di mezzo 10 kill Innanzitutto vediamo dove sei sceso Se in una zona safe o in una zona Ho 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 Lago Languido Lago Languido direi che è una zona molto molto aggressiva Hai qualche kill nel frattempo? No no per ora no Ok ma sei carico fra? Al pt ti ricordiamo che rispondo qualche secondo dopo Che naturalmente non si fanno doni gratis Qua lo voglio mettere alla prova Perché nel team EX Per questo ragazzi È per questo Dimostralo dimostralo Cioè in realtà l'ha dimostrato mille volte Però oggi lo dimostrerà anche nella nuova stagione Innanzitutto bro ti piace il passo? Sì sì è un botto Ti piace un botto? Oh attenzione Perché non l'hai shoppato ancora? Perché diciamo Non riesco Non riesci Con i soldi bro Cioè praticamente non vuoi spendere Tu la di tu forte Non puoi Attenzione Tac Allora A proposito di tac Voglio chiederti una cosa molto importante Ma quanti sono? Dai che tu ho Un altro dietro? Parca miseria Prima kill 9 kill Ma quanti sono raga? Questa non è Ok Tony Che mette il turbo L'avversario non sembra per niente essere male Allora intanto curati Ti chiedo questa cosa Ti piace questa nuova season? Ve l'ho chiesto a tutti Però il pompa del nonno non me lo dovevano togliere Ah ok Quindi ragazzi il problema più grande rimane Perché il tac fa 20 Il problema più grande rimane il pompa del nonno E ricordiamo una cosa Lui ha problema di fps in pubblica Quindi E' rientrato così 76 Dai che è tuo Non sembra essere per niente male l'avversario Ma non è ai tuoi livelli fra Tu sei negli ex 32 Ok Nonostante Un altro ancora Non c'è un attimo di tregua per Tony Non c'è un attimo di tregua Comunque la cosa che tutti odiano di questa season È il pompa del nonno Cosa? Dove ricaricarlo Raga non ha fps Poi ricordiamo quanti fps fai eh Questo mi sembra un po' scarso in realtà Sta solo piccolando Cosa sta facendo? E porca miseria però Hitta 34 Il più scarso ti ha dato più problemi Comunque tre kill o sbaglio? Sì sì Tre kill Ne mancano sette Siete rimasti in 45 Lo vuoi proprio questo pass battaglia Comunque stavo dicendo Il problema più grande di questa season Per tutti è il pompa del nonno Infatti non ha senso secondo me Cioè perché l'hanno tolto? È una cosa insensata Il tac mi dà più sicurezza per gli fps Ok ma quanti ne fai su per giù? Per ora 99 72 Raga è brutta È brutta È brutta È veramente brutta Soprattutto per uno che gioca così veloce da MK Questi fps sono troppo pochi Comunque sette kill Siete rimasti in 30 29 nemici Penso che tutti debba sbrigare Quindi vai Tony Che io non regalo niente Voglio dieci kill Neanche uno e meno Vai vai Non ho fatto manco vittoria reale Quindi non so come sono i player Ah non hai ancora fatto vittoria reale In questa season No Lol Ma non c'è giocato Significa Ah no Ok quindi non sa In realtà neanche io so come sono le lobby Non lo so Comunque 27 Dov'è la gente raga? Perché la mappa è un po' dispersiva Con tutto questo deserto È dispersiva Ma quello 32 Dai che non esce il dato Il problema sai qual'è? Che non è niente per salire Non è neanche Max Cioè questo si è messo È il capo? Da Mamma mia Tony Mamma Così mi fa emozionare Mi fa emozionare Let's go Ti piace la K? A me sì C'è un altro qua dentro L'avversario penso abbia materiale Tu hai ucciso quello Non ha vita però Non ha vita 30 Mamma mia il tac però raga Il tac è veramente scena A livello di danni Comunque 5 kill Ne mancano soltanto 5 Ne hai trovati 2 qua Niente male Diciamo è stato Un altro Ma No vabbè ma che fortuna Qua Tony Allora io ti favo per te Ma questo Che stava facendo Senza vita Tony hanno disattivato La possibilità di scendere Sottoterra Tipo Tremors Di Klet Ma perché secondo te Ma come al solito Ti ricordi quando Avevano messo tipo I carrelli Poi disattivati Le pietre ombra Poi disattivate Già tanto Non hanno disattivato Ancora queste pietre Dai che è tuo Dai che è tuo Non ha vita Dai Non mi sembra Il più forte Della lobby Non mi sembra Per niente Il più forte Ma cosa fa Ti provo a cecchinare Vabbè ragazzi Va bene ragazzi L'ha distrutto Completamente Comunque vorrei farti notare Una cosa Che il charge ti ha fatto Gli stessi danni del tag Ma di nuovo Vabbè ragazzi Il charge li ha fatto Due volte 20 tra cui Una volta in testa Cioè tra l'altro L'ultima volta L'hai preso in testa 20 Ok charge Ok Dai l'ottava kill Dai l'ottava kill Ma raga Ma tutti senza vita Ma che Vi siete messi d'accordo Cioè tutti che vogliono Farvi spendere i soldi Ma che Vi siete messi d'accordo Se vi state chiedendo E immagino che non ve lo state chiedendo Il fatto perché io Parli così È perché mi sono appena svegliato Quindi Sono rincon Ma che sta facendo questo Ma dove è andato È un mago Il prestigiatore della lobby Abbiamo trovato Si sta facendo le splash Quello è il re delle splash Le ha tutte lui Però è Ma che fa Ma lo sai che ci si può coprire Su fuori Bro Quante Hai 10 kill No grazie d'accordo Quante kill hai 9 Mi manca l'ultimo Manca l'ultimo Ma siete rimasti in qui Raga Ok vado a prendere il portafoglio Vado a prendere il portafoglio Niente raga Non ne esco eh Non la scampo questa volta Vado a prendere il portafoglio Dovevo alzare il numero di kill Sono troppo buono Beh Tony dopo questa Le kill aumentano a 15 eh Dopo questa giocata Le kill aumentano a 15 eh È l'FPS Sì l'FPS Dai che aumentano a 15 Ma se muori adesso Da una ciocchinata E muori a 9 Non sarebbe bello Tony Non sarebbe bello Tipo un frizzo incredibile Degli FPS Dai Siamo In un po' Eh non c'è niente Non c'è niente in questo punto della mappa Non penso frizzi Anzi in realtà Ma In realtà sto io blaggando Con gli FPS Penso What No Non l'ho vista neanche Perché stavo controllando OBS Non l'ho vista neanche Non vale bro Non l'ho vista Raga fatemi sapere nei commenti Se l'ha fatta sul serio Perché Io stavo controllando OBS Perché vedo del frame lag Tony non vale Tony non vale Facciamolo Che siete Cosa? L'era mi scambi No non ti scambi Ragazzi non l'ho vista sul serio Non l'ho vista Non l'ho vista bro Poi il passo battaglia costa tanto Cioè Quindi voglio essere sicuro Capisci? Capisci? Non peraltro eh Cioè Non voglio scammare Ah push così aggressivo Ok però gli avversari stanno buildando Potrebbero essere bravi eh Potresti morire Ma comunque io vedo laggare raga Io vedo frame laggare Cioè Non l'ho vista questa kill Quante kill hai Tony Attualmente? Undici Nove? Ah ok 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 Ah undici Cosa nove? Fra va bene Va basta Cioè non serve Perché me lo ripeti bro Poi rovini il video Fammi commentare Ok nove kill per Tony Quante kill hai? Undici Sette? Ah ok 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 Quante? Sei? Sei kill fra? Oh porca miseria Mancano ancora Se siete rimasti in nove Ti devi sbrigare eh Vabbè ragazzi Ha messo il turbo Tony Ha messo il turbo Tony 6 kill per lui 6 kill per lui 92 Ok Terza kill per Tony Si deve sbrigare Ragazzi Sono rimasti in 8 Deve farli tutti lui Sei pieno di maz Andiamo Seconda kill Let's go Tony non ce la fai Mi dispiace Ok dai 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 Ne hai 13 dai Questa è la 14esima kill Facciamo i seri Se ne fai 15 Ti regalo due pass battaglia Tony Capito? Ti regalo due pass battaglia Sullo stesso account però eh Come? Come come? Comunque sta distruggendo tutti A parte gli scherzi Let's go Dai che è andato Ah Tony Ma porca miseria Non giochi ma Come fai? Non giochi mai ma diventi sempre Eh? Non so No No Tony sta succedendo qualcosa di strano Stanno piovendo scintille Dai 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 Butta giù È andato Ok pure al volo l'hai preso L'hai preso pure al volo Let's go 16 kill Sei rimasti Porca miseria Ti ha distrutto Ragazzi sta lì guardatelo Ma quello è proprio il boss della montagna Ma? Cioè quello ti sta mirando Proprio così Gli altri non esistono Cioè Ecco Oh Ah è sceso Finalmente Cosa sta facendo? Raga Sono Ma? Ragazzi Build alla velocità Oh Però aggressivo Attenzione Ok Era un esemplare molto aggressivo Alla faccia Gli ho chiesto 10 kill E ne ha fatte 18 Cioè ancora non l'ha fatta Vabbè ragazzi Mi sta confondo Atta Ok Tony Ok Mamma mia raga Questo deve vincere a tutti i costi Dai che è morto No 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 Dove succede? Ma? Cosa? Ok ragazzi Direi che se l'hai guadagnato Ha fatto 3 kill E se l'hai guadagnato Eh no Cosa no? Guarda facciamo così Giusto perché sono buono Non avresti superato la sfida Ok Però sono molto buono Sono magnanimo E quindi Te lo regalo lo stesso Va bene? Ragazzi Poi non dite che non sono buono eh Regalo a pass battaglia A Vediamo a chi lo regalo Lo regaliamo A Exceed Lollo Pro Va bene Tony? Invio regali in corso Voglio 10.000 like Per un prossimo video Del genere con voi O pass battaglia O skin nello shop Tony Ti è arrivata? Ok mettilo Mettilo Non c'è trucco Non c'è inganno Ok Anche Tony Hai pass battaglia Detto ciò 10.000 like Per fare una sfida Commentate con il vostro ID Aggiungerò uno di voi Casualmente E naturalmente Deco trattere abusivo Nello shop Non c'è il vostro ID